mi non ci posso credere ecco che cosa direbbe aldo che sentisse la notizia di oggi non posso mettere la clip e quindi lo faccio io di che cosa si tratta del fatto che finalmente google si è decisa a risolvere il più grosso problema di chrome in assoluto ovvero quello del consumo estremo di ram è quello delle prestazioni ma lo ha fatto senza ricorrere ad alcuno strumento esterno e quindi non c'è la necessità di installare nessunissima estensione ma solo di abilitare un paio di opzioni che sono come al solito un pochino nascoste ed è esattamente di questo che parleremo oggi ma anche di un'estensione molto carina che ho scoperto e che sicuramente ti farà molto piacere conoscere perché per me è stata proprio una bella sorpresa e allora non perdiamo tempo e catapultiamoci nell'argomento del giorno e quindi se ti senti pronto iniziamo no sto scherzando l'audio funziona volevo dirti che finalmente sono riuscito spero almeno a sistemare questa benedettissima nuova attrezzatura che a quanto pare non andava proprio giù a youtube c'erano dei problemi lievi nel video ma soprattutto nel penultimo video non si sentiva più l'audio arrivava tutto distorto saltava prima un canale poi l'altro insomma un disastro spero davvero ma fammelo sapere nei commenti che questa volta vada bene si senta tutto e finalmente anche le divinità di youtube siano contente ma proprio a proposito delle nostre divinità del tubo non possiamo andare avanti con il nostro video se prima non eseguiamo correttamente il nostro rituale apotropaico che serve a placarle disclaimer i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo andiamo avanti va c'è chi lo odia c'è chi lo ama ma poi ci sono anche i dati di fatto e i dati di fatto ci dicono che google chrome è in assoluto il browser più utilizzato al mondo detiene infatti uno share del 65 per cento a fronte di safari che detiene circa il 21 per cento ma è riservato al mondo mac dato che sono davvero pochi quelli che utilizzano safari su pc seguito da edge che detiene un 5,5 per cento nonostante che sia il browser installato di base su tutti quanti windows e poi tutti gli altri ivi ricompreso il povero firefox che si contendono le briciole ma perché ti dico questo ti dico questo perché come ben sai quest'oggi parliamo proprio di chrome che molto probabilmente è il browser che anche tu utilizzi che ha fatto un ulteriore passo avanti che troverai molto ma molto interessante e da parlarcene è proprio hdblog che ci dice google chrome ora va più veloce ma ci chiede anche avete notato le nuove funzioni ebbene sì perché come al solito ma non si sanno i motivi queste funzioni sono un pochettino nascoste e quindi bisogna andare manualmente a cercarsele e a verificare che siano attive per poter godere di questo miglioramento di velocità andiamo a leggere nello specifico come funziona e di che cosa parliamo google chrome ha introdotto nuove opzioni per ottimizzare le prestazioni del browser su desktop la funzione risparmio memoria memory saver per gli anglofoni di chrome consente di ridurre il consumo di memoria disattivando automaticamente le schede non attive cosa che ti ricordo prima dovevamo fare per forza di cose con un'estensione esterna che pur tuttavia qualche difettuccio anche lei ce l'aveva in più chrome ha aggiunto anche uno strumento chiamato performance detection sempre a beneficio degli anglofoni che è stato progettato per identificare potenziali problemi di prestazioni che potrebbero rallentare il browser quando viene rilevata una possibile inefficienza comparirà una schermata che suggerirà le azioni giuste per migliorare la velocità come ad esempio disattivare le schede che consumano più risorse del dovuto sarà possibile poi cliccare su risolvi ora per applicare le modifiche necessarie in maniera assolutamente automatica per ottimizzare la navigazione niente male purtroppo questo video non ha pause ed in realtà è una cosa gravissima perché c'è questo bacio di dama che ho comprato da un biscottificio qui vicino molto buono che ho scoperto recentemente che mi guarda beffardo da circa un quarto d'ora ma io tengo duro resto con te e ti faccio vedere subito qual è la prima operazione che dobbiamo fare e cioè andare qui in alto su questi tre puntini verticali cliccarci su e aspetta che sposto un attimo il mio grazioso faccino perché quello che dobbiamo fare è cliccare su questa voce che si chiama guida seguita dalla voce informazioni su google chrome una volta aperte le informazioni qui in alto ci verrà detto se chrome è aggiornato oppure no tranquillo comunque perché nel caso in cui chrome non sia aggiornato questa operazione ovvero quella di aggiornamento avverrà in maniera assolutamente automatica adesso che sappiamo che il nostro google chrome è aggiornato ci porteremo qui in alto nella barra di ricerca e digiteremo la parola memoria non sarà necessario premere nemmeno il tasto invio ma semplicemente guardare un po più in basso fino ad individuare questa voce qui quella che dice avvisi relativi ai problemi di prestazioni altro non è se non la seconda voce di cui ci parlava quell'articolo che dovremo andare semplicemente ad attivare per godere di tutti quanti i benefici che ne derivano ma ancora scendendo un pochino più in basso troveremo quest'altra voce quella che si chiama risparmio memoria nel momento in cui ci cliccheremo su come ho appena fatto io questa si attiverà nel caso in cui già non lo fosse e il mio consiglio è di fare due prove la prima a portarla con bilanciato e vedere come vanno le prestazioni ma se vorremmo dare ancora un pochino di pepe in più al nostro google chrome potremo attivare la voce massima per usufruire del massimo incremento di memoria che sicuramente farà andare il nostro google chrome decisamente più veloce rispetto al solito un secondo consiglio che voglio darti e di provare un'estensione che ho appena scoperto che è veramente magica come vedrai andiamo ad aprire una nuova scheda sul nostro google chrome nel motore di ricerca andiamo a digitare gentiluomo digitale effettuiamo la nostra ricerca e facciamo come sempre riferimento al primo risultato ovvero quello relativo al dominio gentiluomo digitale.it clicchiamo per aprire il nostro sito dopodiché qui in alto andiamo a portarci sulla sezione che si chiama downloads clicchiamo per aprire la pagina e scendiamo un pochino più in basso fino ad individuare questo download qui quello che si chiama click and clean si tratta di una normalissima estensione del chrome web store che tuttavia è un pochino difficile da trovare quindi ho preferito linkartela qui sul sito così non la perdi più anche nel caso che dovessi dimenticarti cliccando infatti sul pulsante file download come vedi veniamo trasportati sul chrome web store ufficiale dove possiamo scaricare questa estensione per farlo clicchiamo sul pulsante aggiungi confermiamo cliccando su aggiungi estensione di volerla scaricare in un secondo verrà installata sul nostro pc quello che dobbiamo fare adesso è chiudere le due pagine che si apriranno e portarci qui in alto su questo tassello di puzzle cliccandoci su per andare a gestire le nostre estensioni una volta cliccato individuiamo l'estensione che si chiama click and clean e clicchiamo su questa puntina in modo da mostrarla sempre qui in alto e questo perché è sempre comodo averla sotto mano in questo modo potremo semplicemente farci un click su e vedere che si tratta di una estensione apparentemente complessa ma che in realtà è tutto l'opposto infatti ci consente di fare delle operazioni che altrimenti sarebbero molto articolate su google chrome in una maniera davvero semplicissima andiamo a vedere le principali il pulsante chiudi browser in sicurezza effettua oltre ad una chiusura del browser anche una cancellazione di tutti quanti i dati personali e la cache elimina i dati personali elimina ovviamente solo i dati personali mentre cliccando su questo pulsantino avremo la possibilità di chiudere tutte quante le schede ed eliminare anche in questo caso i dati personali con questo pulsante cliccando su questo angolo qui dove c'è il bidoncino della spazzatura svuotiamo la cache e la stessa cosa facciamo per la cronologia cliccando anche in questo caso nell'angolo qui in alto scansione malware ci apre automaticamente l'anti malware microsoft ed effettua automaticamente una scansione del nostro sistema la voce cookie ovviamente va a cancellare tutti quanti i cookies presenti sempre con il sistema del pulsantino memoria ci mostra l'occupazione della memoria mentre download ci consente di cancellare la cronologia dei download vada bene che invece i relativi file rimarranno sul tuo pc infine la modalità incognito ci consente di aprire una scheda incognito nella quale possiamo fare una qualunque ricerca ecco fatto come vedi non mi riconosce perché non trova i miei cookies quindi devo nuovamente accettare l'accordo di licenza e la scheda che si è aperta è in incognito torniamo alla nostra estensione e vediamo la seconda scheda quella che si chiama chrome al suo interno troviamo due pulsanti che io giudico interessanti più degli altri che sono il pulsante esperimenti questo qui che ci va ad aprire le flags di windows di cui abbiamo parlato in questo video che se ti fossi perso ti lascio linkato qui in alto e che vanno sicuramente configurate per ottenere sia prestazioni che funzionalità migliori da parte del nostro chrome e poi un comodissimo generatore di password una volta cliccato possiamo dire quanti caratteri vogliamo che abbia la nostra password che ci viene automaticamente generata e che possiamo copiare con un singolo clic un'altra utilità niente male devo ammettere che durante questa transizione non sono riuscito a resistere ho inghiottito al volo il bacio di dama pensando di fare il pulbo ma in realtà il video è partito prima ed avevo il bacio qui in mezzo al gargarotto ma continuiamo andiamo avanti e parliamo un attimo della nostra estensione di cui come sicuramente avrai capito non ti ho mostrato tutte 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 le funzionalità che ti invito comunque a sperimentare e magari se ne trovi qualcuna che a tuo avviso è particolarmente interessante puoi segnalarla agli altri membri della community naturalmente nei commenti oppure nel forum ma sempre a proposito di community quest'oggi abbiamo dei ringraziamenti piuttosto complicati da fare ma io ci provo lo stesso e in particolare quest'oggi voglio ringraziare ciò tutto scritto giuliano lolli pier autore massimiliano santinelli salvo davola augusto bonanni domenico greco euro michele castagnini e mark use per essersi abbonati barra rinnovato l'abbonamento al canale e quindi vi do il benvenuto il ben rimasti a bordo della community dei gentiluomini ma attenzione perché invece abbiamo roberto miotto gianfranco zanellato francesco azzara e dark player 84 darti il nostro amico che si sono sì abbonati barra riabbonati o rinnovato l'abbonamento quello che vuoi ma in qualità di distinti gentiluomini e quindi carissimi è un vero piacere levarmi il cappello farlocco davanti a voi e non abbiamo finito perché ci sono anche giorgio p e walter ruggero che hanno voluto contribuire con i loro generosissimi super grazie alla vita della nostra community e quindi anche a voi ragazzi di tutto cuore un ringraziamento grande grande ed un ultimo ringraziamento fondamentalissimo è quello destinato proprio a te che hai guardato questo video mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti ma hai fatto anche quasi strozzare con il bacio di dama ma ti perdono e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima